Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno, protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Patrizia Fortunati con Altrove. Dopo la descrizione della trama leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! C'è un tavolo bianco, in fondo un vicolo che muore nel lago. A quel tavolo siedono due donne, delle quali una soltanto proietta la sua ombra a terra. E Giacinta, artigiana e intarsiatrice del legno, che ha ereditato un dono speciale dalle sue antenate. L'altra è Nennella, sua nonna. Giacinta e Nennella, alla luce di una lanterna che non si spegne mai, sedute a quel tavolo, accolgono i loro ospiti, ascoltano i loro racconti, ricevono messaggi da consegnare a chi è rimasto. La storia delle donne che abitano la grande casa che si affaccia sul lago, si intreccia così con le storie di altre esistenze in una trama che, costruita con la precisione di un intarsio, pezzo dopo pezzo, va a comporre un disegno delicato e ricco di senso. Una storia fatta di incontri, segni e sospiri, di tenerezze e legami indissolubili, anche quando sembra che tutto sia finito. Lì, a quel tavolo bianco, nel vicolo del vento, quel vicolo che muore nel lago. Lì, dove spirano venti, che non sono venti. Patrizia Fortunati. Altrove. Tutto quello che sono, che so e che ho, lo devo a Nennella. Una vecchietta dolce e risoluta, con gli occhi talmente chiari che ti ci puoi specchiare, e i capelli di un colore che non è bianco e non è grigio, ma sta lì in mezzo, sempre raccolti in un complicato chignon fatto alla sua maniera. È sempre in ordine, Nennella, perché gli ospiti non sai mai quando arrivano, e devi essere sempre pronta ad accoglierli. Veste in modo semplice, ma curato, predilige le gonne con taglio classico e le camicette dai colori pastello. Qualche volta indossa dei vestiti, ma solo nelle occasioni speciali. Non si fa mai vedere, nemmeno da me, senza una spolverata di cipria numero 05 sulle gote e un filo di rossetto rosa sulle labbra. Al collo hai il nostro gioiello di famiglia, una collana di perle che a ogni generazione si arricchisce di una pietra di colore diverso. Siamo sempre insieme, io e lei, anche quando avrei voluto stare da sola e scappare lontano, lontanissimo, fino all'altro capo del mondo. Lei era sempre lì, sempre qui, accanto a me o dietro di me, ad accompagnarmi, a rincorrermi, a tendermi la mano, a proteggermi, a esserci. Tutto quello che faccio, lo faccio perché anche lei mi ha donato la capacità di farlo, e perché anche lei mi ha dato la capacità di accettarlo e di gestirlo. Lei mi ha insegnato a essere sempre pronta ad accogliere i nostri ospiti, ad accoglierli e ascoltarli sempre, anche quando non possiamo fare nulla per loro. Nennella è mia nonna, è morta 19 anni fa, e i nostri ospiti sono le anime dei defunti. 1. Abitiamo in una casa fatta di pietre a vista, alta e stretta, e con un tetto a punta, come le case disegnate dai bambini. A ogni piano c'è un numero variabile di stanze. Alcune sono enormi, altre davvero piccole, e tutte sono separate, oltre che da pareti e porte, anche da due gradini di marmo grigio rosato, e i piani, quattro in tutto, sono collegati tra loro da scale scomode ed isuguali. Anche le finestre di ogni piano sono diverse per forma, dimensioni e colori. La casa si affaccia sul lago, che con le sue acque tranquille lambisce il lato più lungo. Dal lato opposto si estende il paese, un centinaio di case addossate l'una all'altra e separate da vicoli stretti e viuzze tortuose. Tutti in salita a guardarli dal lago, che occupano tutto lo spazio disponibile tra l'acqua e le pendici delle montagne. La nostra casa è la costruzione più alta. Si vede l'orizzonte da qualunque parte ci si affacci dalle finestre rotonde dell'ultimo piano. Da un lato l'orizzonte è tracciato sul lago, dall'altro sulle montagne, proprio come nei disegni dei bambini. Da ogni stanza si vede uno scorcio diverso, e ogni scorcio appare diverso a seconda della luce, della stagione e dell'anima di chi lo osserva. Ogni scorcio è unico, diverso da tutti gli altri, e diverso da se stesso ogni volta che si guarda, perché il tempo passa, inesorabile per tutto e per tutti, e cambia continuamente le cose. Senza dirtelo, spesso senza fartelo notare, e ancora più spesso dandoti l'illusione che tutto sia sempre immutabilmente uguale. Cambia la luce del giorno, mai uguale a se stessa due volte nell'eternità, e cambia il cielo, impegnato a rinnovarsi a ogni istante. Cambia il buio della notte, perché anche la stella più piccola e più lontana fa il buio diverso. Cambiano le cime delle montagne e la forma delle coste, anche se ci vogliono cento anni e mille metri di distanza per vederlo. Cambia l'aria che respiriamo, la pelle che indossiamo, i pensieri che facciamo e quelli da cui fuggiamo. Cambiano i nostri occhi, cambia il modo in cui camminiamo, e perfino il modo in cui respiriamo. I sogni, le attese, le ombre, le paure, le convinzioni assolute e le semplici opinioni. Cambia la persona che abbiamo accanto da trent'anni, che pure a noi sembra sempre la stessa. Il sapore dell'acqua, i dubbi e il gusto delle piccole cose. Impercettibilmente e continuamente tutto cambia, si trasforma, evolve, indipendentemente dalla nostra volontà e dalla nostra consapevolezza. Molto spesso, con tempi talmente lenti che ce ne rendiamo conto molto più tardi o addirittura mai. Così io sarò diversa quando avrò finito di raccontarvi la storia di Nennella, di Hortensia, e delle altre donne della Casa degli Orizzonti. Siamo le sole, noi, a chiamarla così, almeno fino a oggi. E voi, che lo vogliate o no, sarete diversi dopo aver letto questa storia. Che ve ne rendiate conto subito, domani o tra dieci anni, ci sarà un momento in cui guarderete nel vento e nel silenzio come non avete mai fatto prima.